Era un po' che non ci sentivamo e purtroppo questa è un'occasione un po' particolare per il quale faccio questa registrazione. Purtroppo ho avuto la risposta pochi minuti fa della mia positività. Inizia così il video del sindaco di Capolona Mario Francesconi con il quale annuncia a suoi concittadini di aver scoperto di essere positivo al Covid-19. Il primo cittadino è comunque asintomatico, sta bene ed attualmente si trova in isolamento domiciliare. Non ho problemi particolari, penso perlomeno che lo si veda anche dalla registrazione, però la positività esiste e quindi sono in assoluta quarantena. Una notizia che arriva a pochi giorni dallo screening di massa gratuito proprio a Capolona, campagna che ha già registrato un boom di prenotazioni. Alle 12 di venerdì erano infatti già 1250 i registrati nel portale regionale. Le prenotazioni resteranno comunque aperte sino alla mezzanotte di venerdì 29 gennaio. Questa situazione sembra proprio paradossale, è venuta quasi per caso e però ha quanto opportuno lo screening che abbiamo organizzato insieme ad ASL, Regione, ANCI e tutte le associazioni di volontariato per sabato e domenica. Perché chiaramente prevenire, monitorare in questo modo e prevenire le varie situazioni possibili, come spero che non ce ne siano in giro, però purtroppo il mio caso è emblematico di questo, che potrebbero essere dei portatori sani di questa situazione, portatori non sani insomma, portatori però non consapevoli di questa malattia. Due le postazioni che saranno allestite nel capoluogo per l'intero weekend, mentre nella frazione di Castelluccio solamente nella giornata di sabato. In accordo tra Comune ed ASL, infine, è stato deciso di estendere il test non solo ai residenti nel Comune di Capolona, ma anche a coloro che ci lavorano o hanno il domicilio nel paese. Invito tutti a rendere parte allo screening perché è un dovere civico, oltre che un controllo personale che sicuramente fa bene a se stessi e fa bene anche a tutti gli altri.